Ciao ragazzi, qui è Football Shake, vi parla Ragazzi, avevo avvertito un post tramite YouTube Community Che non sarebbero arrivate ieri, ma sarebbero arrivate oggi Le 6 bustine Eccole qua Ragazzi, poi questo andiamo a vedere cosa ho trovato negli altri video Vediamo le 6 bustine Questi sono gli artwork Penso e spero che si veda benissimo Perché se non siete benissimo è un male Iniziamo dalla prima Non ho preso ancora lo starter pack perché ho deciso che prima di prendere Ah, raga, ci porterà fortuna Stipe Perizza Tagliato E anche Linetti Tagliato Ho deciso che prima di prendere lo starter pack Ragazzi, prima voglio avere un po' di figurine Poi lo prenderò Fra sabato e domenica sicuramente Iniziamo subito con la prima Allora, vediamo Ah, il fogliettino Ve l'ho fatto vedere male Ora ve lo faccio vedere meglio qua Gioco online Ti va a vedere come puoi chiamare la squadra Attivando un codice Sinceramente non so questo codice a cosa serve Però, vabbè, poi c'è i premi che puoi vincere Niente di che Insomma, se fosse più dettagliato Perché questa è la rara Sarà un idolo Ho anche una coppia imbattibile Abbiamo Abbiamo Cristo Gonzale Ho detto bene, sì Poi abbiamo Ibrahivan Bayer Ancora Marlon Prima doppiona E Gianluca Mancini Ah no, è anche Stefan De Vraia Ah dai, raddrizziamo un po' questo pacchetto con due buonissimi difensori E la rara Quagliarella top player Mi piace ragazzi Questa mi piace Non avevo visto il bordo che era un po' Quagliarella top player Voila ragazzi, voila Se questo video ragazzi arriva Se questo video ragazzi arriva a 50 mi piace A ogni 60 Vi do il codice di Quagliarella top player Quagliarella top player Ragazzi Vabbè Ci sta Io Io dico che secondo me siamo partiti bene Ho detto Ah sarà sicuramente un titolo Ma non c'è Cioè pensavo si capisse un po' di più Vabbè meglio Prima bustina è andata bene dai Buona la prima diciamo Ora non mi aspetto più niente Ma ci sta tranquillamente Ok Ok Allora Prendiamo sempre la rara Le rare Le mettiamo dietro Abbiamo un Rasmussen Che l'anno scorso giocava nell'Empoli Se non mi sbaglio Sì Poi Zaccagni Sì Sprocati E Luisa Alberto Non male Non male Luisa Alberto Oh Poi andiamo avanti Vediamo il portiere Che ci da consigli di idolo Scusate per primo comunque Consigli di idolo E Una coppia di battibile Beirardi Caputo Questa sera Questa è una gran coppia Ve la consiglio Al fantacalcio Beirardi Caputo Abbiamo trovato Le rare Adesso a suolo Dai La coppia di battibile Ripeto Non è una rara Ma io mi confondo sempre Pensando che sia una rara Perché Non l'ha valuto come rara Cioè È una carta È una carta speciale Secondo me Ma non è stata inserita Dalle speciali della checklist Allora Tanto muoviamoci Che qua Ok Stiamo a 40 ore Voglierete già la rara Che tra parentesi Già ho Quindi anche prima Rara doppia Ancora meglio ragazzi Sottile doppione Musso Zurkovski doppione E murgia Adesso sto iniziando A trovare le prime doppie Ragazzi Questo non va bene Come la prima doppia Che è Lazaro Blitz Lazaro Blitz Prima doppiona Ole Ci sta Ci sta Poi andiamo avanti Ok ragazzi Ho deciso di portare Tutte le altre rare Perché Se no Dopo cadono tutte L'altra comunque Rara Era Magnelli Idolo Ok Altre Tribus Ragazzi Vediamo un po' Se ci darà Una stella Qualcosa Dai Una stella Che comunque Non mi fa schifo Ok ragazzi Scusate Ho dovuto chiudere La finestra Ok Vediamo subito Ragazzi Io come obiettivo Comunque C'è di trovare Ronaldo Top player Perché anche L'anno scorso L'ho trovata Mi mancava solamente lui Ho deciso Invece di comprarla Non l'ho presa Alla fine Ma Mi mancava solo lui E ho rosicato Tantissimo Tanto Vabbè Facciamo così E poi le giriamo Abbiamo Oddio Qua cade tutta ancora Spinazzola Ok Ismael Bene Sei l'ho presa Al fantacalcio Grandissimo Il gallo Belotti E per finire Josè Palomino Andiamo dalle rare Abbiamo un culo Idolo Ragazzi Trovando un sacco Di rare doppione E poi Prima Ironman Ragazzi Mattias Vesino Ironman Bella Bella Ci sta Ok Altre due Booster Vediamo un po' Questo video ragazzi Sta durando Un bordello di tempo Mi sono dedicato tanto Alla top player Ok Qua la rara E facciamo così Abbiamo Lianco Alex Meret Mario Pasaric E per finire Tremolata Ok Abbiamo La prima rara Che è Muro d'acciaio Dell'Atalanta Ma per finire In bellezza Insigne Stella Lorenzino Insigne Stella Quindi Ragazzi Il mio miglior pack opening Oggi Lo devo proprio ammettere Ultima Busta Vediamo Che ci uscirà fuori All'ultima Ole Ok 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 Mettiamo Dietro E vediamo Un po' Abbiamo Felipe Caicedo Impronunciabile Ma mi sa che si chiama Deramaku Joachim Correa E Missiroli Allora La prima rara È Gianpaolo Pazzini Ragazzi Io ho due idolo E come cazzo faccio A trovare sempre doppione E poi Per finire Una stella Iago Falke Ragazzi Io mi reputo Soddisfatto Perché poi È uscita pure La top player Quagliarella Top player Abbiamo trovato Quagliarella Top player Questo Questo Allora Mi è piaciuto Mi è piaciuto ragazzi Le carte migliori Che abbiamo trovato Sono state Queste Allora Intanto così Oscuro la luce Quindi devo fare così Abbiamo Vestino Ironman Il muro da cielo Dall'Atalanta Quagliarella Top player Insegna stella Diego Falke Cioè In sei bustine Due stella E una top player Ottimo Ragazzi Io direi ottimo Ragazzi L'ho già detto A raggiungimento Di Facciamo 60 like Se questo video Prima Deve fare Le viso Non le faccio Nemmeno Vi darò Tutti Questi codici Ragazzi Il codice Della top player Quagliarella A raggiungimento Però come ho già detto Di 60 like Se no Ok ragazzi Va bene Ok Quindi così Le aggiungiamo Quagliarella Cioè ragazzi Non ho aperto Tante bustine Io Sono già A quante stelle Più o meno Sarò a Due stelle Più due Quattro Ottimo Ottimo Mettiamo qua Grande E poi così Vi faccio vedere Infatti penso Che Una delle mie Prossime Aperture Sarà Sicuramente Il Mega starter pack E niente Vabbè ragazzi Da football show È tutto Ditemi se anche voi Qua sotto Nei commenti Avete trovato Una top player Io l'ho già trovata Una su 50 buste Dando se riesco A prenderla Perché ho problemi La voglio rovinare E niente ragazzi Ditemi anche Se volete Altri video Per quanto riguarda Questa raccolta Che io vi riporto Volentieri E niente ragazzi Qui da football show È tutto E ci siamo Con quagliarella E arrivederci